Lugio 2021, il Movimento 5 Stelle, che fa? Chi è? Chi è il leader? Beppe Grillo. Ah, così? Dritto? Sparato? Come si è. Ed è alleato col PD? Penso di sì, perché non hanno alternativa, litigano, però pur di tenere Salvini e la Meloni fuori dal governo vanno ancora a braccetto.